Bentornati ai forum CNPR, gli appuntamenti settimanali promossi dalla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili, guidata da Luigi Pagliuca. Quella di oggi è una puntata speciale dedicata al convegno dell'Associazione Nazionale Commercialisti sul tema una vera riforma fiscale e l'intelligenza artificiale per il rilancio della professione. Sogno o realtà? Il nostro compito oggi è quello di ascoltare insieme a voi gli interventi su questo evento di approfondimento sul tema della riforma fiscale e dell'intelligenza artificiale nell'ambito della professione. Ascoltiamo insieme cosa hanno detto ai nostri microfoni gli ospiti intervenuti, membri del Parlamento, esponenti del Governo ma anche delle istituzioni e della categoria. La riforma fiscale e l'intelligenza artificiale per il rilancio della professione, sogno o realtà? È il tema del Congresso Nazionale promosso dall'Associazione Nazionale Commercialisti nella Sala Conferenze dell'Hotel Gli Dei di Pozzuoli. Hanno introdotto i lavori Marco Kuckel, riconfermato alla guida di ANC, e Luigi Pagliuca, presidente della Cassa di Previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili. Il presidente Kuckel si è espresso sullo stato dell'arte della riforma fiscale e sull'introduzione dell'intelligenza artificiale nel mondo delle professioni. La riforma fiscale è un argomento che ha visto coinvolti i commercialisti da tanto tempo, che hanno richiesto a gran voce, le attese erano molto alte e purtroppo ad oggi dobbiamo dire che per quanto riguarda i provvedimenti già andati in gazzetta ufficiale, che sono molti, ma si tratta più di una riorganizzazione del sistema. Non si è pensato a incidere in maniera forte su quello che è il sistema fiscale italiano. In tema di semplificazione c'è pochissimo. In tema anche di trovare un sistema per far emergere il sommerso, che in Italia è molto alto, e quindi rideterminare anche la base imponibile e abbassare la pressione fiscale, che è una delle più alte nei paesi Ocse, purtroppo ancora non è stato fatto molto da questo punto di vista. Ci auguriamo che nei prossimi mesi possa essere introdotto qualche provvedimento che vada in questo senso. Sicuramente l'intelligenza artificiale può dare un contributo forte anche per il lavoro negli studi professionali, è una ottimizzazione dei tempi, anche un'ottimizzazione del lavoro che svolgiamo. È un contributo però che deve essere chiaro, non può prescindere dall'assistenza, dall'intervento del professionista che deve rimanere centrale. Quindi diciamo che il prodotto finale, che è l'intelligenza artificiale, ma tutta la digitalizzazione in senso lato produce, deve essere poi vagliato e adattato anche alle singole situazioni, perché ogni contribuente è una vita a sé, ha una situazione a sé, quindi dobbiamo intervenire singolarmente anche entrando in empatia con il contribuente e capendo quella che è la propria situazione oggettiva. Trovare risorse per dare efficacia alla riforma fiscale è la priorità per Andrea De Bertoldi, deputato del gruppo Misto e componente della Commissione Finanze e della Camera. La riforma fiscale sta andando avanti, il Vice Ministro Leo sicuramente con le competenze, la qualità, la conoscenza della materia, lo sta realizzando nel migliore dei modi. Però c'è un però che è legato al fatto, come io ho sempre sostenuto, che una vera riforma fiscale dovrebbe poter contare su fondi, su dei fondi importanti, perché senza fondi la riforma può dare delle semplificazioni, può migliorare il rapporto fisco-contribuente ed è quello che tutti ci aspettiamo, ma avere quegli effetti stimolanti sul sistema produttivo, sulla crescita del PIL, questo è necessità di fondi. Bisognerebbe cioè essere in grado di avere una tassazione ridotta in modo premiale, cioè permettere di essere un sistema attrattivo per i nuovi investimenti, per le nuove imprese, per i capitali esteri, per gli italiani stessi che ovviamente decidessero di lavorare di più. Ma per poter arrivare a questo, per poter utilizzare la leva fiscale, ovviamente servono in prima battuta delle risorse, perché si deve innanzitutto diminuire l'impatto fiscale e poi sperare nella crescita del PIL e quindi nel rientro di maggiori introiti. In definitiva, per una vera riforma fiscale ci vogliono dei fondi e l'utilizzo delle cosiddette retroazioni fiscali, cioè la possibilità di utilizzare quali coperture delle manovre di bilancio, gli effetti positivi che i maggiori investimenti determinerebbero. Ma la ragioneria dello Stato non la pensa esattamente così, quindi non potendosi utilizzare le retroazioni fiscali l'unica strada sarebbe quella di avere più fondi, quelli che però oggi il nostro Paese non ha. Quindi in conclusione una riforma fiscale sicuramente fatta con esperienza, con perizia, ma che manca di fondi per utilizzare al meglio la leva fiscale. Ma io invece su questo non ho grosse preoccupazioni, perché voglio ritenere che come tutte le innovazioni certamente va calibrata, va utilizzata con grano salis, però se utilizzata al meglio può essere uno strumento efficace per la lotta all'evasione, ad esempio per accertamenti più mirati e ritengo che come in tutti i campi l'uomo deve sempre rimanere al centro, quindi un utilizzo opportuno, puntuale dell'intelligenza artificiale potrebbe secondo noi dare dei vantaggi al sistema e non delle difficoltà. Una riforma che ha tradito le attese per Virginio Mero, la deputato del Partito Democratico, è componente della Commissione Finanze della Camera. L'informa fiscale rischia di essere a un punto non buono, perché vedo che non riusciamo ancora a comprendere che il tema della lotta all'evasione fiscale è il tema centrale, ci sono troppe ingiustizie, troppe diseguaglianze tra i percettori dello stesso reddito. Questo non viene affrontato e credo che questo sia sempre più un problema, anche per la credibilità delle nostre istituzioni. Come ogni grande innovazione tecnologica ha dei rischi e delle opportunità, sicuramente può aiutare molto per quanto riguarda il lavoro, l'organizzazione del lavoro, anche degli studi professionali. Dobbiamo stare molto attenti, tutti siamo molto attenti al tema degli algoritmi, come vengono formati. Abbiamo bisogno però di una maggiore attenzione anche al tema delle infrastrutture, cioè come infrastrutturiamo questa intelligenza artificiale. Dai piccoli esempi, non c'è comune dove non ci siano proteste per l'installazione delle antenne 5G. Ci sono temi ambientali, perché i supercalcolatori consumano parecchia energia e quindi bisogna affrontare questo tema e poi dobbiamo evitare di mettere barriere, ostacoli all'implementazione di questa tecnologia. L'Europa ha approvato delle regole, io mi auguro che in Italia noi non ci diamo più regole, ma applichiamo quella direttiva cercando di stare in una dimensione europea. Se anche su questo fronte ogni Stato si richiude in se stesso, credo che non riusciremo più a essere competitivi rispetto alla Cina e negli Stati Uniti. Rivendica l'impegno del governo sulla riforma Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Lavoro della Camera. La riforma fiscale era un impegno che questo governo si era preso anche in campagna elettorale, è stata avviata subito perché i tempi per poi emanare anche i decreti attuativi sono lunghi, quindi contiamo nell'arco di tutta questa legislatura dei cinque anni di portarla a compimento. È ambizioso come programma, abbiamo cercato di riformare e semplificare un po' quelle che sono le norme e la pressione fiscale. Concordo anch'io sul fatto e quindi sposo questa richiesta da parte dell'Ordine e dell'Associazione Nazionale Commercialisti di prevedere una proroga dell'ingresso del concordato preventivo perché effettivamente i tempi di recepimento e attuazione di questa nuova norma sono difficili da digerire e hanno bisogno di più tempo per essere compresi estesi, anche da parte del contribuente finale che in questo momento probabilmente è un po' sconcertato rispetto a questa proposta, che è una proposta che vuole andare nel senso di un fisco amico, una fiscalità amica nei confronti del contribuente, non più una vista in maniera vessatoria, però deve nascere questo rapporto di fiducia tra contribuente e fisco e quindi secondo me una maggiore armonizzazione o più tempo sarebbero fondamentali, quindi faremo una riflessione come governo, spero che questa riflessione si apra in modo che ci sia maggiore tempo di comprensione. L'intelligenza artificiale intanto sarà la più grande rivoluzione, la nuova rivoluzione industriale di questo millennio, sicuramente insieme ovviamente all'innovazione tecnologica, sicuramente potrà dare un grande supporto in tutti gli ambiti conosciuti del mondo del lavoro, delle applicazioni nelle scienze, nella medicina, nella difesa, nella sicurezza sui luoghi del lavoro, anche nel mondo delle professioni, per quanto riguarda tutta quella che è l'attività di ricerca, tutte quelle attività rutinarie. È chiaro che però un così grande impatto come quello che avrà l'intelligenza artificiale avrà necessità di avere un impianto normativo importantissimo e questo a cui sta lavorando il governo, ovviamente in relazione a quello che è il regolamento dell'Unione Europea che stanno preparando anche in Europa, però dovrà avere sicuramente, dovrà essere molto attento a normare per lasciare una visione antropocentrica, quindi una visione in cui l'uomo è costruttore, attore del proprio futuro, non subire quelli che sono gli effetti dell'intelligenza artificiale che può essere, può avere anche effetti estremamente distorsivi dal punto di vista etico, morale, sociale e dal punto di vista dell'impatto sul mondo del lavoro. Quindi ci deve essere una grande attenzione perché tutto ciò che può portare di beneficio può essere anche distruttivo e distorsivo, quindi il legislatore secondo me in questo momento ha un compito estremamente importante. In più in Italia noi non abbiamo aziende competitive, in questo momento ci sono le aziende americane che sul mercato stanno rastrellando dati per formare gli algoritmi, il rischio è che l'Italia sia un paese che subisce in questo momento l'impatto dell'intelligenza artificiale senza esserne attore e promotore. Quindi anche da questo punto di vista lavorare per incentivare le grandi aziende, per raccogliere anche le start-up, le innovazioni e creare un grande motore di produzione italiano di intelligenza artificiale. Forti critiche sono state espresse da Mario Turco, senatore del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Finanze a Palazzo Madama. Innanzitutto la riforma fiscale è partita male, noi l'avevamo evidenziato già nel corso della sua approvazione come delega. I decreti attuativi stanno confermando una serie di criticità legate innanzitutto alla mancata semplificazione che era auspicata e tanto attesa sia da professionisti e sia dai contribuenti. Dall'altra parte non si creano spazi fiscali per la riduzione della pressione fiscale, anche perché la legge delega è in varianza fiscale e dopodiché con riferimento alla lotta all'evasione fiscale c'è uno strumento che è il concordato preventivo biennale che era stato annunciato come uno strumento rivoluzionario nei nuovi rapporti collaborativi tra fisco e contribuente. Oggi si sta rivelando uno strumento coercitivo per fare cassa a favore del governo. Noi diciamo no a questa riforma e diciamo no al concordato preventivo biennale che andrà a complicare la vita di professionisti e soprattutto di contribuenti. Noi innanzitutto dobbiamo difendere la categoria dei dottori commercialisti, soprattutto quelli che sono in trincea e che sono a supporto delle imprese ma a supporto dell'erario. Oggi la categoria dei dottori commercialisti è a rischio per quanto riguarda tutte le attività tradizionali. Noi abbiamo la necessità di favorire l'ingresso dei giovani e oggi tutto quello che il governo sta facendo potenziando anche gli uffici sulle precompilate dove si spendono tante risorse pubbliche senza ottenere grandi risultati non va bene. Dobbiamo rilanciare la figura dei dottori commercialisti come una figura a supporto delle imprese e soprattutto come uno strumento di legalità e su questo l'intelligenza artificiale può essere un grande strumento a supporto dell'attività professionale ma soprattutto quale strumento che può essere di aiuto dell'Agenzia delle Entrate e quindi degli uffici erariali col supporto anche dei dottori commercialisti per fronteggiare l'evasione fiscale che ormai è diventato un'emergenza che sottrae 80 miliardi l'anno allo Stato sociale. Soddisfazione è stata infine espressa da Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli che ha sottolineato come il convegno sia stato un evento importante per la valorizzazione del territorio. Sicuramente è un evento importante, un evento che va nella valorizzazione del territorio e soprattutto in un periodo come questo, questo del bradicismo, fare un congresso a Pozzuoli che disegna anche ridare vita, riavvivare un po' tutta la situazione e quindi come turismo congressuale che Pozzuoli naturalmente in questi anni ha assunto una posizione importante. Io quindi veramente sono contento di questo evento che si faccia e naturalmente come ogni evento che si fa sul mio territorio io invito sempre a rifarli sempre di più perché valorizzare questo territorio con queste professionalità aiuta moltissimo la città di Pozzuoli. Il punto di vista dei professionisti sulla riforma fiscale è stato espresso da Marcella Caradonna, presidente dell'Odcec Milano. Come tutte le riforme hanno luci e ombre e poi bisognerà vedere l'interpretazione sul campo perché questa è la parte più importante, vedere poi sul campo come verranno interpretate queste norme. Certo ci sono degli elementi sicuramente favorevoli però anche delle criticità che forse andrebbero approfondite meglio ma il viceministro è sempre molto attento quindi io spero che ci ascolterà anche su quelli che possono essere gli aspetti più delicati. Bene siamo giunti al termine anche di questa puntata numero 138 dei forum CNPR, gli appuntamenti promossi dalla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili guidata da Luigi Pagliuca. Questo è stato uno speciale dedicato al convegno dell'Associazione Nazionale Commercialisti che si è svolto a Pozzuoli sul tema una vera riforma fiscale e l'intelligenza artificiale per il rilancio della professione sogno o realtà. Abbiamo ascoltato i vari interventi degli illustri, autorevoli ospiti che si sono succeduti, si è parlato di riforma fiscale, a che punto siamo, quali sono i prossimi passi ma abbiamo ascoltato anche quali sono le perplessità della categoria, i nodi ancora da sciogliere e poi soprattutto abbiamo ascoltato anche interventi sul tema della intelligenza artificiale come queste nuove tecnologie non sono solo una sfida ma possono essere anche una vera opportunità per le professioni. Ringrazio tutti voi che anche oggi ci avete dedicato la vostra attenzione, ringrazio la regia e la redazione che hanno collaborato alla realizzazione anche di questa puntata e noi ci vediamo presto con un prossimo appuntamento dei forum CNPR. Grazie.